Le inchieste su un nuovo presunto caso di malasanità avvenuto a Palermo. La Procura, la Repubblica e l'ospedale Cervello vogliono fare luce sulla vicenda di un cinquantotenne, Gioacchino Castiglione, gestore di una tabaccheria a Borgo Nuovo, sposato e padre di tre figli, che domenica sera si è presentato a pronto soccorso all'ospedale con un evidente gonfiore al collo e con il respiro affannoso. Dopo aver atteso con il codice verde 70 minuti e una radiografia, i medici gli hanno consigliato una visita endocrinologica alla tiroide rimandandolo a casa. Ma dopo 24 ore è morto in strada mentre a piedi si stava recando nello studio del medico curante. Immediata è stata la denuncia della sua famiglia. I PM Pierangelo Padove e Claudio Lazzaro hanno disposto l'autopsia e il sequestro della cartella clinica iscrivendo nel registro degli indagati il medico che l'ha visitato l'uomo. Stamattina la direzione del Cervello ha nominato una commissione di indagine per accertare i fatti ed eventuali responsabilità da parte dei medici in servizio. Gioacchino Castiglione hanno spiegato ai legali che assistono alla sua famiglia non soffriva di alcuna patologia e non assumeva farmaci. Da una settimana soffriva di quel fastidio al collo che si era manifestato all'improvviso. La notizia della morte del tabaccaio ha sconvolto l'intero quartiere Borgo Nuovo.